Il Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia ha ribadito la sua netta opposizione al progetto della linea ferroviaria alta velocità alta capacità Venezia Trieste. Stamane i consiglieri regionali e comunali nel corso di una conferenza stampa hanno presentato una serie di iniziative per chiarire le reali intenzioni che stanno alla base del progetto, a partire dalla mozione depositata in Consiglio regionale il 21 ottobre scorso. Con questa iniziativa, spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle, Sergo per la regione, impegniamo la regione e la giunta regionale a richiedere una soluzione alternativa potenziando e valorizzando la linea esistente. Una soluzione che deve riguardare l'intera tratta Portogruaro-Ronchi dei Legionari e non soltanto quella tra il fiume Tagliamento e il comune di Cervignano, cancellando definitivamente le ipotesi di nuove gallerie o l'ampliamento di quelle esistenti in Carso. Il Movimento 5 Stelle dice no a opere di questo tipo perché le risposte date dallo Stato sono quasi sempre inaccettabili, ha ribadito il consigliere comunale Stefano Patuanelli.